Quando si avranno notizie più certe perché la situazione è bloccata, cosa sta succedendo in diretta, diretta? Cosa ci dicono gli esperti, esperti? E quanti sono coinvolti, coinvolti? E quando ancora noi dobbiamo aspettare per sapere cosa sta succedendo in diretta, diretta? Cosa ci dicono gli esperti, esperti? E quanti sono coinvolti, coinvolti? E soprattutto che dice il PD, 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 il PD si schiera a destra, il PD si schiera a destra E il movimento è sexy, e il movimento è sexy, vai tutti insieme, cambia la legislatura, vai con la serie, cambia la legislatura E il movimento è sexy, sexy, vedi così, sexy, sexy Libanese Afghanistan, così vedi, attenzione tra la Nato, tra la Nato Le donne, c'è tensione con la Russia, le donne, con la Russia, le donne, con la Russia Bomba!